Diretta allora Prova dire che la mia moglie si avisce a quella casa Noi siamo in una zona poco coperta Ma adesso è dentro sul sito del Tornaveco Passi Sì, sì, sull'ultima cartella Come ultima cartella? Prendi l'i-fi Prendi l'i-fi Collegati in l'i-fi E collegati in l'i-fi Attaccati qua Poi glielo spieghi a tua moglie Tra l'altro questa sera Sai che mi hanno offerto due digerzi Per l'Armani No E che cosa sei venuto a fare? C'aveva la febbre Ma che mi hanno chiamato alle 6 Prendi l'armani Prendi l'armani Normale Wifi Ah non con me Perfetto Attaccati Sì Il numero è questo 3 3 5 7 4 8 7 2 6 Accedi È possibile Prendi l'armani Allora 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 Prendi l'armani 3 5 7 3 5 5 7 3 5 7 2 2 6 7 7 2 2 8 8 9 9 No, altro no. È per quanto è quello? È tutto impostato. Sì, sì. Numero. Tre. Cinque. Sette. Quattro. Otto. Sette. Due. Sei. Accedi. Sì. È possibile accedere. E ora sono in diretta di qua? Sì. 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 È possibile accedere. Sì. È possibile accedere. Sì. Sì. questo è il numero che si fa conosciuto si inizia con un 2 no 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 se lo so, forse abbiamo cambiato la patria e non me lo ricordo però mi compraziamo perché però dopo non me lo ricordo più ah stanno già vedendo guarda ci sono due visitatori come per sapere? lo vedo da qua su il virus volendo potrei anche cercare vediamo se ciao chi siete? se l'hanno aperto tutto il schermo è difficile che riescono a vedere la chat che cos'è detto bene ah c'è buona pegata vi bene od per non Grazie a tutti. 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 Dado. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. , ma... a tutti. 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 . a tutti. . a tutti. 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 . . a tutti. a tutti. a tutti. se. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. . 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 PALLO. 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 Grazie a tutti. 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 4-6-5-4. 4-6-5-4. 4-6-5-4. 57-66. 59 a 66 stiamo recuperando un punto stiamo recuperando si è spento tutto qua 3, 3 3 bravo 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 59 a 60 siamo 59 a 60 vai Mario si sta vedendo il campionato tedesco ma cos'è questo qua? ho sbagliato Milano è qua 57 a 68 è il quarto quarto eh? no per me è ancora il terzo no a te è quarto adesso c'è il compito indietro vai no no 57 a 68 quanto? 57 a 68 11 punti avanti loro ah ma perde quarto quarto è iniziato adesso è iniziato adesso è iniziato adesso è quarto quarto eh ma questi qua sono forti noi siamo crollati 70 a 57 hanno segnato ancora loro 70 a 60 10 punti di 70 a 60 vai Fede un canestro da 3 bravo bravo gravi un'insegnato da 3 ma non fa niente da 2 si bravo vai 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 Sì! Si stacchiamo dalla professione. 73 a 60. 73, minchia. Ha fatto il canaccio da due. Sì, i nostri. Non è che abbiamo fatto... Abbiamo fatto la partita come al solito. Se quelli ci fanno più di 50 punti...